Ok signori, un bel ritrovati, sempre uno qui che vi parla, quest'oggi è giovedì quindi sconti e soldi doppi, mo' mal di gola perciò niente sigla Dicevo, non è una settimana di sconti e soldi doppi, sono due settimane di sconti e soldi doppi perché andremo avanti fino all'undici Quindi già è una settimana del cavolo per quanto riguarda sconti eccetera Però ci accompagnerà fino all'undici e molto probabilmente l'undici verrà rilasciato l'aggiornamento Quindi potrebbe essere che verrà rilasciato appunto l'undici agosto ovvero martedì verrà rilasciato l'aggiornamento Attualmente questo è l'indizio più palese che abbiamo Il che vuol dire che potrebbe essere annunciato l'argomento del del sitipo per il 7 barra 8 agosto potremo avere una cosa del genere Arriviamo subito, sarà un video molto veloce perché di base non c'è molto da dire Abbiamo la Sugoi come veicolo del podio, abbiamo soldi doppi però ci sono Arena War punti tripli Ok? Sulle modalità Arena War Soldi doppi sulle survival Abbiamo il 50% di sconto sull'arena Il 40% di sconto sulle modifiche dell'arena Il 50% di sconto sui veicoli apocalisse dell'arena 40% di sconto sull'RC bandito L'RC tank, quello piccolino La Toros La Deviant Il 35% sulla The Vest E il 35% sulle armi aliene Ok? Questo è quanto Io fossi in voi non butterei via soldi in baccate Perché se mancano davvero 11 giorni passerei il tempo a fare i soldi Non so se funzionano ancora i vari glitch Insomma sentite il canale di GTA TV Se volete glitchare o altro Per chi invece volesse essere legit Io non starei con soldi doppi su survival eccetera Continuerei onestamente Innanzitutto non comprate veicoli né niente Ok? Casomai andate solo con le armi Andate solo con le armi aliene Ma a parte quello Non prenderei nemmeno l'arena war Continuerei a fare colpi Continuerei a fare bunker in solitaria Col Diciamo col glitch del frizz del tempo E E in Hat Club Io continuerei con queste cose onestamente Non c'è veramente molto da dire Se non fosse che appunto mancano 11 giorni Questa volta potrebbe essere la volta buona Altra cosa Stando a quanto è successo con l'aggiornamento di Red Dead Secondo me l'aggiornamento estivo di GTA Non sarà niente di veramente incredibile E vi ricordo che l'aggiornamento massivo Sarà a dicembre Per cui qualcuno sta già sbagliando Si sta già esaltando C'è un piccolo aggiornamento quest'estate E sulla base di Red Dead Non mi esalterei più di tanto E niente Però tenetevi da parte un 20 milioncini Se no ci sono le recovery di soldi Quindi Se volete aggiunte soldi Provate a scrivermi in privato Per quanto riguarda PlayStation e PC A come ho dato io non ne so niente Quindi tutte queste cose qua Se volete glitch Ve lo ripeto C'è sempre GTA TV E altra gente E basta Quindi direi che da Reno Per questo video è veramente tutto Noi ci vediamo in questi giorni Con tanti video su Red Dead In live domani mattina Su Twitch E alla prossima 3, 2, 1 Da Loa